Ciao a tutti, oggi siamo molto contenti perché dobbiamo montare gli Interphone Tour di Cellular Line sui nostri nuovi caschi Shark Explorer. Il modello Tour è il top di gamma della gamma Cellular Line. Noi lo usiamo sulla stessa motocicletta, ma anche se siete su due mezzi diversi o vengiate con gli amici, ha un raggio d'azione che consente di parlare fino a un chilometro e mezzo di distanza. Sul casco piccolo l'abbiamo già montato, era predisposto, ci abbiamo messo solo 5 minuti. Vediamo insieme come si fa! Interphone Tour è l'interphone ideale per i lunghi viaggi in gruppo. Potete collegare fino a 4 device. Se viaggiate da soli potete collegarlo al telefono o all'MP3. Si monta facilmente, come vedete nel video, ha un'autonomia di 20 ore e si ricarica molto velocemente. Nel pacchetto trovate un power bank incluso e ovviamente è impermeabile. Usiamo Interphone da tanti anni, siamo sempre stati molto soddisfatti del prodotto. Non vediamo l'ora di provare il modello nuovo e i nostri nuovi caschi sciacchi in fibra. Grazie, alla prossima!